Sono più di 4 o 6 bagni risposti sul canale diversi, a fronte di centinaia e centinaia di visitatori, senza parlare poi dei grandi magazzini. Per esempio, fai il nome del più basso più grande magazzino di Milano e fessi un esempio. I bagni sono solo al quarto piano e trovarli vedremo in più, ma anche in più. E' vero perché anche sull'ora, io mi sono trovata nei grandi magazzini, mi chiedono se arrivano e mi rispondono che sono solo del personale. Per cui, a questo punto, il signore che è stato un bambino, oppure le persone anziane con problemi, non possono andare a andare a fare. E' vero perché l'ora della tua signora, cioè sul fatto che il signore forse, secondo lei, trova un po' più attento a compilare la polizia. E' vero perché l'ora di lei vada in bagno, sia l'animale, nel tempo che si procedeva la polizia. E' vero perché, adesso lo posso dire, ai miei tempi c'era uno spettacolo e l'altro, c'era sempre che andava in una sala e andava in un'altra canzone. Cioè, tutte le cartacce, tutte le raccoline, la polizia, la polizia, la polizia...